Arriva l'estate anche se ancora si fa desiderare ed è tempo di viaggi e vacanze. Ritorna così anche per quest'anno la campagna promossa da CNA e Confartigianato e con Noi Parti Sicuro, l'iniziativa che prevede un check-up gratuito dell'automobile nelle oltre 70 officine che aderiscono alla campagna, per partire così in tutta sicurezza. Vengono controllati i pneumatici, i freni e tutti gli organi essenziali della vettura, di modo che nell'eventualità si scoprisse qualche problema o che poi deciderà il cliente se riparare o meno. Le auto officine che sono aderenti sono consultabili tramite i siti delle due associazioni di categoria e l'iniziativa parte dal 18 giugno fino a settembre. Quanto è importante un controllo per prevenire poi incidenti stradali? Sostanzialmente è uno dei punti di partenza, perché avere una vettura che sappiamo esattamente le condizioni in cui è può assolutamente prevenire. Un pneumatico che è rovinato o i freni che sono usurati non sono perfettamente efficienti possono essere fondamentali per evitare un incidente o una cattiva avventura. I tre attori del film della sicurezza della circolazione sono l'uomo, il veicolo e l'infrastruttura. La polizia stradale interviene in ognuno di questi settori, controllando l'efficienza del veicolo, verificando il buono stato dell'infrastruttura e ovviamente contrastando fenomeni di guida dove il comportamento del conducente va a infrangere una norma. Controlli su strada, torna il narcotest nelle strade aretine? Esattamente, abbiamo già in programma quattro servizi mirati con l'utilizzo del precursore che accerta l'eventuale guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Abbiamo già in programma, ho qua una scaletta, due servizi a luglio, uno a settimana, due, tre e l'altro 23, 24 luglio. Uno ad agosto, un servizio ad agosto tra il 20 e il 21 agosto e l'ultimo a settembre, 10-11 settembre.